Eccoci arrivati all'atto finale di questa bellissima storia scritta da Decio Canzio, l'artiglio del mostro. Buona visione! Riassunto delle precedenti puntate. Recuperatevi le precedenti puntate. Avevamo lasciato Frankie e Kit in balia di un mistero e di due loschi individui mentre un terzo giocatore entra in gioco. Chi sarà? Lo scopriremo solo leggendo. Basta con questa mascherata, Wanamaker. So benissimo che ci sei tu dietro quell'elmo. Hai ragione, Kit Teller. È il momento della resa dei conti. È giusto che ognuno mostri il suo vero volto e si toglie la maschera. Sorpresa! Dite la verità, ve l'aspettavate anche voi. Vince Davis! Preferisco che tu mi chiami con il mio vero nome, Sam Wanamaker. Quella cintura mi ha tratto l'inganno. Vuoi forse sapere cosa ne è stato del vero Vince Davis, piccolo Ranger? Eh, pure noi vorremmo saperlo. Non ti avevo raccontato solo menzogne, Teller. Davis era davvero alle mie calcagne. Ma quando mi ha raggiunto per lui è stata la fine. Ora il suo corpo giace lassù, sulle colline, calcificato dai raggi del sole. La famosa cintura di Davis mi è servita per prenderne le sembianze quando quello sciocco di ballo si è fatto scoprire. Venire fra voi nelle vesti di sceriffo era il miglior modo per controllare le vostre mosse. E fa per infilarsi questo dannato guanto. Quella che tu hai chiamato mascherata mi è stata utilissima per far paura ai Comanche. E quanto i guanti artigliati devi ammettere che hanno fatto per intero il loro dovere. Poco fa ti ho voluto risparmiare per non tirarmi addosso tutti i ranger del Texas. Ma adesso che hai scoperto il nascondiglio del malloppo non ho altra scelta che è... Kit apre il pugno nella quale teneva la preziosa polvere raccolta poco prima. E... Ecco il tuo oro! E gli glielo butta in faccia. Maledetto! Ti scorti che ero vivo! Dannato ranger! E... 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 Inciampa! No! Kit cade all'indietro. Ecco la scena. Poi ha rallentato ora questa scena. Si avvicina. E cerca di nuovo di artigliarlo ma Kit si sposta. Crack! E prende in pieno il boletto. Ora siamo tutti e due a mani nude bandito. Decideranno i nostri pugni. E il bandito è costretto a sfidarsi il guanto. Smack! Perché smack? Smack! Smack! Un pugno! Sock! Smack! Sploff! Bang! Nananananananananananana! Bamba! Stong! In quel momento dal canneto... Kit! Sherifo! Per tutti i diavoli! Vi sembra questo il momento di abbracciarvi? Come al solito Frankie non ha capito niente. Kit! Ma che stai combinando? Sei lacero e sanguinante! Attento alla pistola! Frankie! Come so... Fa sempre casini Frankie. Con uno scatto felino il bandito ruba l'arma a Bellevan. Meglio così. Prenderò due piccioni con una fava. Oi là sceriffo! Siete ammattito? Hai combinato una bella frittata Frankie. Sei Wannamaker. L'assassino è lui! In cui incredibilmente la rivelazione di Kit non sembra impressionare granché il vecchio Ranger. Ah! E così dunque! E quelli suppongo che siano i famosi artigli. Voglio provarli anch'io questi artigli. Non ti muovere cani di un Ranger. Frankie stai fermo! Mi stanno larghi! Fermo! Frankie ti ucciderà! Consegnami la pistola gran chignolo! Rimane un po' così perplesso. Come detto? Ho detto consegnami la tua arma! Ma tu devi essere pazzo! Parola mia! Ti rendi conto che sei disarmato! Mentre io... Quante storie su via! Non perdiamo tempo con questi piccoli insignificanti particolari! Ma che fai impazzito Frankie! Cioè egli la dà! Letteralmente sbalordito dall'indifferenza con cui il baffuto Ranger sostiene la minaccia della sua pistola, il bandito esita qualche attimo e Bellevan non si lascia sfuggire l'occasione. Dammi qua sto catenaccio! Ma... Cioè... Sarà meglio che tu raccolga l'arma di Wallamachia! Vedi quella che ho in mano? Sei stato fantastico Frankie! È bravo Frankie! Ma ecco lui si china... E poi una scena... Pah! E gli... Frankie interviene e gli dà una botta in testa con la pistola. Mentre Freccia Veloce e i suoi guerrieri Comanche arrivano sulla scena... Frankie! Non posso credere ai miei occhi! Avvicinarsi con tanto straordinario sangue freddo a quel bandito armato e... Beh! Come stavo dicendoti! Stamattina ho pulito la mia colt e mi sono scordato di caricarla! Ah... Ecco! Click! Vedi Kit! Di fronte a un'arma scarica non so perché... Mi sento un leone! Frankie! Questo è troppo! Freccia Veloce! Fai venire qui tutti gli uomini e le donne disponibili! Dobbiamo setacciare la sabbia di questa spiaggia granello per granello! Anche se hai perso qualcosa mi sembra che tu pretenda troppo! Ragazzo mio! Taci Brontolone! Wanamaker ha sparso l'oro su tutta la spiaggia! Dobbiamo recuperarlo! Vuoi dire che sto calpestando l'oro? Oh l'oro! Che felicità! Bravo! Mettiti al lavoro! Prima di stasera dobbiamo raccoglierlo tutto! Aiutati da Comanche, dopo aver seppellito i corpi gli Stuart Ball e dello sfortunato Sandy, i due ranger lavorano fino al tramonto per recuperare la preziosa polvere! Da notare che scrivono RICUPERARE! Cioè, testi di una volta! Mio figlio e i seguernieri ti scorteranno fino al più vicino forte dei lunghi coltelli, piccolo ranger! Addio, orso grigio! Auguro a te e al tuo popolo di vivere in pace! Intanto si vedono frecchi sullo sfondo con Wanamaker legato! Il sole è già alto quando la piccola carovana lascia il campo indiano! Affideremo Wanamaker e loro ai soldati! Ahimè! Quei centomila dollari mi avrebbero fatto proprio comodo! Pazienza! Mi acconterò del premio per il recupero! E cosa vuoi farne? Comprerò un marito a nenni quattro pistole! Per qualche migliaio di dollari certamente troverò qualche vecchio ubriacone disposto a sacrificarsi! Così io raggiungerò finalmente la tranquillità! Ah ah ah! Purtroppo per te il premio andrà ai nostri amici Comanche, se lo sono meritato! E noi? Non ce lo meritiamo? Eh che cazzo! Noi siamo Ranger del Texas e siamo già pagati per fare il nostro dovere! Beh, in effetti il governo ci passa 55 dollari al mese, ma che vuoi che basti quella cifra? Frenchi sindacarista! Visto che il mio debito di gioco con Lucky Johnson assomiglia già a 9.729 dollari e 30 cents! Accidenti! Se la fortuna non si decide a voltarsi dalla mia parte, dovrò cominciare a preoccuparmene seriamente! Fine dell'episodio! Il video finisce qui! Se anche voi vi siete divertiti in compagnia di Kit e Frenchi, e anche in mia compagnia naturalmente, mi raccomando lasciatevi un bel like! Se ancora non sei iscritto alla soffitta di Pippo, iscriviti per rimanere sempre aggiornato sui miei contenuti! Noi ci vediamo alla prossima, sempre qui, sempre sulla soffitta di Pippo! Ciao!